Buonasera a tutti oggi facciamo i vuoti marchi di McDonald's Poca Cola zero biologo poca Grazie a tutti. Abbiamo patatine, patatine, tre patatine, patatine ancora, ma è un sito di Shiro, Big Mac Big Mac Allora Io non vi mangio questo cammino E vi dico com'è Chicken Buono Bellicola Sì Aspetta Buono Buono Cinghia di buono Non male Buono 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 Questo era tutto, noi ci vediamo alla prossima con un nuovo video, ciao Bocchi Bacchi!